Signor Dan Non puoi dimenticare il fatto che sei una donna. Qual è la regola? Devo proteggermi in ogni momento. Bene. Trovati un uomo e sposalo. La gente ha saputo quello che fai. E ti ridono tutti dietro. Non ho nessuna tanne che il Frankie. Io ci sono almeno. Ho fatto molti errori nella mia vita. E sto cercando di evitare che tu faccia come me. Lo so, capo. Hai accanto un uomo in gamba. Sì, è vero. Ehi, 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 dai, sta giù. Lo sai quanti anni ho? Io voglio solo tenerla con me. No, tu stai cercando di evitare di vincere il titolo. Frankie viene in chiesa quasi tutti i giorni da 23 anni. Solamente una persona che non riesce a perdonarsi qualcosa lo farebbe così spesso. Hai un incontro di cui non so niente? Mi lascerai? Mai.